Resistance of focus braccia e spalle, 17 minuti ad altissima sollecitazione muscolare con tempi alti, esercizi combinati e bassi tempi di recupero. Iniziamo! Ok, iniziamo. Gomiti aderenti al corpo, esposto la mano lateralmente. I gomiti sono fermi, alterna braccio destro e sinistro, scaldiamo bene le spalle, respirazione, esercizio successivo, distensione braccia più rotazione, 3, 2, 1, cambio, distensione braccia e rotazione in avanti, respiro, testa dritta, 10 secondi e poi cambiamo torsione del tronco, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, torsione del tronco, allargo le gambe, piego leggermente le ginocchia, torsione del tronco, mi muovo lateralmente, torsione del tronco laterale a destra e a sinistra. Non forzare il movimento, respira, ancora 5 secondi, 3, 2, 1, skip più calciata, skip destro e calciata sinistra, skip destro e calciata sinistra, separo bene i due movimenti, 10 secondi e poi cambiamo skip più calciata dall'altra parte, 5, 4, 3, 2, 1, skip sinistro e calciata destra, vai, skip sinistro e calciata destra, sincronizza il movimento, ancora 10 secondi, respirazione naso e bocca, fai lavorare anche le braccia, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, esercizio successivo, bicipiti frontali, doppia salita, 5, 4, 3, 2, 1, bicipiti frontali, doppia salita, allargo le gambe, piego leggermente le ginocchia, testa dritta, addome forte, doppia salita e torno giù, attiviamo le braccia, utilizziamo un pesetto che ci permette di fare l'esercizio senza sacrificare la tecnica, ancora 15 secondi, testa dritta, esercizio successivo, spinta in alto, continue, ancora pochi secondi, 5, 4, 3, 2, 1, spinta in alto, continue, salgo e scendo, prima da un lato e poi dall'altro, non scendo mai completamente, il pesetto si ferma in linea con le orecchie, respirazione, addome contratto, gambe leggermente piegate, alterno la salita a destra e a sinistra, massima attivazione delle spalle, ancora 10 secondi, resisti fino alla fine, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, esercizio successivo, bicipiti doppia salita, più spinta in alto, tra 3, 2, 1, vai, bicipiti doppia salita e spinta in alto, separa bene i due movimenti, testa dritta, allargo le gambe, piego leggermente le ginocchia così non scarichiamo il lavoro sulla schiena, braccia e spalle, vai, ancora, bicipiti frontali, salgo, spinte sopra la testa, lavoriamo sulle braccia, sulle spalle, esercizio successivo, bicipiti doppia salita, più bicipiti ampi, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, doppia salita frontale e doppia salita laterale, gomiti aderenti ai fianchi, fuori aria quando sali, doppia salita frontale, doppia salita laterale, 20 secondi resisti, testa dritta, addome contratto, piego sempre leggermente le ginocchia, ancora 10 secondi, non ti fermare, attiviamo le braccia, vai, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, esercizio successivo, tricipite busto a 45 gradi su un braccio, 3, 2, 1, vai, mano destra appoggiata sul ginocchio, fletto ed estendo il braccio sinistro, l'addome contratto, attiviamo il tricipite sinistro, respirazione, testa giù, respiro, esercizio successivo, alzate laterali su un braccio, ancora qualche secondo, 5, 4, 3, 2, 1, alzate laterale con un braccio, con il braccio sinistro, braccio sinistro semiteso e solevo lateralmente, l'altra mano appoggia sul fianco opposto, gambe piegate e addome contratto, testa dritta, ancora 10 secondi, resisti fino alla fine, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, passiamo dall'altro lato, dall'altra parte, tricipite busto a 45 gradi su un braccio, 3, 2, 1, quindi la mano sinistra appoggiata sul ginocchio, fletto ed estendo il braccio destro, fuori aria quando estendi, prendi aria quando fletti, respiro, 20 secondi resisti, addome forte, gambe piegate, ancora 15 secondi, esercizio successivo, alzate laterali su un braccio, ancora qualche secondo, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, con il braccio destro lo manteniamo semiteso e lo solleviamo lateralmente, l'altra mano appoggia sul fianco opposto, gambe piegate e addome contratto, lavoriamo solo con il braccio destro, l'altra mano sul fianco, addome forte, testa dritta, ancora 10 secondi, resisti fino alla fine, esercizio successivo, bicipite a martello più spinta in alto, 3, 2, 1, bicipite a martello più spinta in alto, vai, allargo le gambe, piego leggermente le ginocchia, bicipite a martello, giro, spinta in alto, bicipite a martello, giro, spinta in alto, addome forte, testa dritta, lavoriamo su braccia e spalle, sincronizzo bene il movimento, ancora, continua così, ancora qualche secondo, respira, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, ci prepariamo all'esercizio successivo, alzate laterali, alternate 90 gradi, 3, 2, 1, alternate prima da una parte e poi dall'altra, alzate laterali, braccia 90 gradi, testa dritta, respiro, alterno, braccio destro e braccio sinistro, fino alla fine, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, ci prepariamo al Arnold press facilitato, 3, 2, 1, Arnold press facilitato, alzate sopra la testa e torna ruotando le braccia, il movimento è continuo, allargo bene le gambe, piego le ginocchia, addome forte, testa dritta e andiamo, vamos, attivazione delle spalle, alzate sopra la testa, torna ruotando le braccia, sincronizzo il movimento, ancora qualche secondo, non mi fermo, 10 secondi, movimento continuo, non ti fermare, ancora 5, 4, 3, 2, 1, spinte in alto con i pesetti a martello, vai, gomiti leggermente in chiusura, le gambe leggermente piegate, espirando, effetto le spinte, ispirando, scendo, addome contratto, spinte in alto con i pesetti a martello, respiro, ancora 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, ci prepariamo alle alzate frontali, 3, 2, 1, alzate frontali, mantieni le braccia semi tese, gambe leggermente piegate, le spalle basse, salgo con un braccio e poi con l'altro, attiviamo le spalle, 20 secondi resisti, mantengo le braccia semi tese, utilizzo un pesetto che vi permette di fare l'esercizio senza rovinare la tecnica, ancora qualche secondo, 5, 4, 3, 2, 1, rematore singolo, la mano opposta appoggia sul ginocchio, ruoto il braccio portando il gomito dietro la schiena, respiro, vai, testa dritta, piego le gambe, la mano appoggia sul ginocchio, ancora 15 secondi, ancora 10 secondi resisti, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, cambio braccio, rematore singolo dall'altra parte, 3, 2, 1, vai, la mano opposta appoggia sul ginocchio, ruota il braccio portando il gomito dietro la schiena, attiviamo la schiena, respirazione, ruoto il braccio portando il gomito dietro la schiena, testa giù, respiro, movimento continuo, non mi fermo, ancora 10 secondi, vai, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, esercizio successivo, alzate laterali a 90 gradi in isometria, 3, 2, 1, vai, alzate laterali in isometria, salgo, blocco, qualche secondo di isometria e scendo, è fondamentale mantenere le gambe leggermente piegate, addome forte e la testa sempre dritta, respiro, gomiti a 90 gradi, salgo, blocco e scendo, salgo, isometria di qualche secondo e scendo, non ti fermare, ancora 10 secondi, vai, sali, isometria e scendi, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, avviciniamo il nostro tappettino per l'esercizio successivo dip da seduto, andiamo ad attivare i tricipiti, 3, 2, 1, dip da seduto, mani dietro la schiena, piega i gomiti, scendi, poi risali, non aprire i gomiti, il movimento è controllato, respira, attiviamo i tricipiti, ancora 20 secondi, mani dietro la schiena, piega i gomiti, scendi, poi risali, il movimento è veramente corto, ancora 10 secondi, cerca di non aprire i gomiti, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, esercizio successivo, rematore un braccio da terra, 3, 2, 1, rematore un braccio da terra, ginocchia in sospensione, porta il gomito dietro e torna, non appoggiare le ginocchia a terra, addome contratto per mantenere l'equilibrio, le ginocchia in sospensione, porto il gomito dietro la schiena e torno, resisti ancora solo 10 secondi, ancora 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, cambiamo il braccio, rematore un braccio da terra, dall'altra parte, 3, 2, 1, vai, ginocchi in sospensione, porta il gomito dietro la schiena e torna, non appoggiare mai le ginocchia a terra, addome contratto, testa dritta, l'altro braccio in linea con la spalla, respiro, mantengo la posizione e porto il gomito dietro la schiena e ritorno, ancora 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, esercizio successivo, spinte da terra in sospensione, schiena ben aderente a terra, 3, 2, 1, gambe a 90 gradi, prima parte della schiena sollevata, fletto ed estendo le braccia, addome contratto per mantenere la posizione, fuori aria, chiudi le braccia, prendi aria con le braccia a 90, addome forte, respiro, non ti fermare, 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, ora siamo arrivati alla fase dello stretching, ottimo lavoro, non saltare mai lo stretching, fondamentale per recuperare prima e migliorare la nostra elasticità, esercizio successivo, stretching tricipite da terra, 3, 2, 1, afferra un gomito, porta il braccio dietro senza forzare e mantieni la schiena dritta, respiro, 10 secondi, 3, 2, 1, stretching spalla da terra, stesso braccio, braccio teso e portalo al petto, mantengo le spalle basse, 3, 2, 1, stretching tricipite da terra, afferra l'altro gomito, porto il braccio dietro e mantengo la schiena dritta, 3, 2, 1, stretching spalla da terra, stesso braccio, braccio teso, lo porto al petto, mantengo le spalle basse, rimango in posizione e respiro, 3, 2, 1, cambio, divaricata frontale, saliamo in piedi, allarghiamo bene le gambe, scendo frontalmente in divaricata frontale, dove arrivo, mantengo la posizione di stretching, testa rilassata, respiro, mantengo la posizione senza forzare. 3, 2, 1, e risaliamo piano piano, il tuo allenamento è finito, ci vediamo al prossimo allenamento, vamos! Grazie a tutti!